Per questo scherzo c'è un nuovo video, oggi siamo qui a reagire all'album, al nuovo album di Gwepequei, Gwe, di Gwe, perché non si chiama Gwepequei, ma Gwe, Madre Perla. Vado a vedere le tracce, sono una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici tracce. Partiamo con la prima traccia, Gwe, Prefissi, ascolto la traccia e poi vi dico cosa ne penso, ci vediamo dopo. Qui c'è da dire una cosa, Prefissi, Gwe, ovviamente, devo dire che, vi devo dire, vi devo dire, vi devo dire, che la situa è partita male, perché è partita bene, Ma sì, è partita bene e poi finita male, diciamo così. È partita bene, perché mi piaceva anche, non se poi, se ti serve un po' di cash, noi te lo prestiamo, se ti serve, noi non ti crediamo, che cacchio è? Non sono un'unità che, boh, boh, nulla, non mi è piaciuta, diciamo, non mi è piaciuta. Allora, sempre il mio parere personale, questa non mi è piaciuta, se dovessi dare un voto tra 0 e 10, darei un 6. Diamo la sufficienza a questo pezzo, però nulla, anzi, sufficienza su un cavolo. Diamo 5 e mezzo, 5, 5 dai, 5. Ora andiamo alla seconda traccia, che guardo subito come si chiama, tuta, gue e pachi, tuta mappia, 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 boh, ok, gue e pachi, tuta mappia, l'ascolto e poi ci sentiamo dopo per le considerazioni anche su questo pezzo. Tuta mappia, gue, pack, tuta mappia, devo dire, questa mi è piaciuta, questa mi è piaciuta. Soprattutto perché gue dice la mia madonna, non so perché dice la mia madonna nera e poi ha detto, tu non vedi un cazzo come in un porno chap. Basta, è finita, è finita, bastito, no, è bellina, bellina. Se dovessi, il mio parere personale, se dovessi dare da un voto da 0 a 10, direi un bel 7. 6 e mezzo, dai, a sufficienza, non troppo, è bellina, ma è solo la seconda canzone dell'album, sicché mi aspetto molto di più da gue. Ora andiamo col terzo, col terzo che è, mi hai capito, gue, mi hai capito o no? La sento e poi dico cosa ne penso, di mi hai capito o no, due. Gue, ne hai capito o no? Gue, non ho capito un cazzo, scusate. Il francesismo. Non mi è piaciuta, non mi è piaciuta, voto tra, sempre, per il mio parere personale, voto da uno, da non intenditore di musica, tra l'altro. Il mio parere personale, mi piace, gusti mia. Tra uno, tra 0 e 10, diamogli un 5, 5, 5, come quella di prima, come la prima che ho ascoltato, la seconda è andata bene, 3 e mezzo, 7, scusate, la seconda, se non mi sbaglio. Ora andiamo con la terza, scusate. Ora andiamo alla quarta, sì. Gue, Anna, e spero, e basta, Cookings and Creams, and Creams. E i video parlano tutti di droga, sì che... Che bello, parla della do... E il primo video era lui che disfaceva, ammazzava, sparava, faceva. Secondo video, uno che preparava i biscotti e li dava a uno col passamontagna, il terzo video, quello col passamontagna che porta i biscotti a uno che poi va a casa, mangia i biscotti e fuma. Una scima, diciamo. Si fuma un cannone. Ora, gue, Anna, spero e basta. Cookings and Creams, l'ascolto e poi ci vediamo. E poi ci vediamo dopo per il mio apparete. Allora, gue, Anna Sfera, Cookings and Creams, bella, bella, mi è piaciuta, mi è piaciuta. Vuoto 7 e mezzo, mi è piaciuta. Gue... Tu stai ridendo. Ora c'è gue, il massimo pericolo. Ned you, two night, penso, Ned you, two night, penso, Ned you, two night, two night. Ehm, l'ascolto. Comunque confermo parlare di droga. Le canzoni, le canzoni parlano di droga, confermo. Pure questa... Ehm... Cocco no, come ha detto, me ne è la due. Comunque confermo, le canzoni, tutte le canzoni per ora parlano di droga. Andiamo alla quinta traccia. Quinta traccia, Ned you, two me, two, no, Ned you, two night, gue, massimo pericolo. Ci vediamo dopo per la mia opinione. Need you, two night, need you, due, need you, non so dovevo dire. Need you, chiamo two night, perché... Allora, devo dire, bellissima canzone, mi è piaciuta, bellissima canzone, mi è piaciuta. Siamo su trend sette e mezzo, ancora questa, bella. Raga, non c'è la rima dell'anno, non c'è la rima del giorno, e nemmeno del... E nemmeno del mese, e nemmeno della settimana. La rima dell'anno, meglio fare i porno con la tipa, che una tipa che fa i porno. Perla del giorno. Rima e perla dell'anno, bye, bye, massimo pericolo. Quindi, citazione, massimo pericolo, 2022. No, 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 massimo pericolo, citazione, massimo pericolo, 2023. Complimenti, complimenti. Meglio fare i porno con la tipa, che una tipa che fa porno. Non lasciamo anche a crista, per non scordarmi, ma vabbè. Cos'era da dire. Ora, c'è la canzone, penso, ecco, leon... Leon, non so cosa vuol dire, the professional, ma va bene. Gue, leon, the professional. C'è scritto anche l'ascolto e poi ci sentiamo dopo che l'ho ascoltata. Per le mie parere personale. Allora, Gue, leon, the professional. Mi è piaciuta, mi è piaciuta. Ti diamo anche qui un sette e mezzo. Devo dire un'altra cosa. Un'altra rima. Potremmo dirla così. Una barra, non lo so come dire. Ho fottuto con la white così tanto che ora la mia wife si chiama Bianca. Che ora anche la mia wife si chiama Bianca, scusate. Bella rima. Bella rima, mi è piaciuta. Ok, ora. Gue, marra, ercomi, free. Sei comunque sul filone della coca e dell'esperatorio. E c'era anche il tipo che prima si è fumato il cannone che ha fatto anche questo video con una pistola. Ok, andiamo con Gue, marra, ercomi, free. Ci vediamo dopo per la mia opinione personale. Free. Gue, marra, ercomi, free. Mi è piaciuta anche questa. Non ho trovato ancora la hit. La hit assoluta non l'ho trovata. Però mi è piaciuta. Sette e mezzo. Ho dato queste sette e mezzo a parte due. Gli ho dato quattro, cinque, non mi ricordo. Cinque forse. Dai, vabbè. Mi è piaciuta. Sette e mezzo per questa. Ora andiamo con l'altra traccia. Ne mancano ormai poche. Gue, mollami, parte due. Gue, mollami, parte due. Ci sentiamo con la mia opinione. Quando l'ascolto e poi vi darò la mia opinione personale. Mollami, parte due. Gue, mollami, parte due. Raga, sono tutte, quasi tutte canzoni da sette e mezzo. Però questa è da sette e mezzo, secondo me. Molto bella. Carina, dai. Carina, non bella. Carina. Sette e mezzo ci può stare. Ora andiamo con lontano dai guai. Featuring Gue, Mahmood. Lontano dai guai. Poi ne mancano tre. Dopo lontano dai guai c'è Chiudi gli occhi. Da un K in su featuring Benny the Butcher. E poi Gue, Napoleone. Gue featuring Napoleone e K tosta. Però andiamo con lontano dai guai. Gue e Mahmood lontano dai guai. Vi l'ascolto e poi vi dico il mio parere personale. Gue, Mahmood lontano dai guai. Lontano dai guai. Allora, non è il mio genere. Lido 6. Lido 6. Non è il mio genere. Ora andiamo avanti. Comunque. Almeno che gli ultimi tre. Gli ultimi tre. Pezzi siano bombe. Bombe proprio di quelle boom. Pazzesche. Penso che. Se questi tre pezzi non sono. I migliori pezzi della storia di Gue. Penso che questo album. Mi ha deluso. Io ho visto l'album Gue. Mario per l'audito. Porca. Porca pupazza. Gue. Spacca. Spacca. Gue sicuramente. Va bene. Fa l'album dell'anno? No. Sta facendo un album. Che è di ottime canzoni. Che è di canzoni. Canzoni un po' me. E ottime canzoni. Però non c'è la hit. Non c'è la vera hit. Antecipo che dopo questo video ne uscirà un altro. Se ce la faccio a farli uscire tutte e due oggi. Uno sì, uno no. Non lo so. Ora vedo. Dove reagiscono all'album di Gelière. Quello nuovo. Ora. Chiudo gli occhi. Gue. Chiudo gli occhi. E comunque in questo video alla fine ci sarà un extra che non è una canzone di Gue. Ve lo dico già. Vabbè. Gue. Gue. Chiudo gli occhi. Ci vediamo dopo per il mio parere personale. Questa canzone Chiudo gli occhi. Sta sul 6. Album dell'illusione. Album dell'illusione. Andiamo alle penultime due canzoni. Gue. Da un milione in su. Featuring Benny the Butcher. Poi c'è Cappatosta. Featuring Napoleone. Ora. Gue. Un milione in su. Featuring Benny the Butcher. L'ascolto e poi vediamo il mio parere personale. Ricordatevi alla fine c'è una chicca. Una chicca. Una canzone. Non de Gue. Da. Ascoltare. Una barra due. Non lo so. Dopo guarderò. Da un chilo in su. Gue. Featuring Danny the Butcher. 6. Però c'è stata una rima che mi è piaciuta. E non è da un... Ho sbagliato. Ho detto da un K. Insomma è da un chilo in su. La rima è... Me la sono... Scritta. Nel 2015... Nel 2015 ho fatto il mio primo milione. Tu hai fatto la galera bravo coglione. Bene. Ora. Ultima più chicca. L'ultima canzone è... Cappatosta. Featuring... Ho detto il voto a questo. Mi ricordo. 6. Ho detto 6. Sì. Cappatosta featuring Napoleone. Ascoltiamo questa. E poi vi dico. Il mio parere personale. Sulla canzone. Sull'album. È più i due. L'uno. Uno. Barra due extra. Allora raga. Conclusione sull'album. L'album Madre Perla. Allora. Il pezzo. Il pezzo. Che si chiama. Vado a dire una notte. Cappatosta. Featuring. Napoleone. Non mi è piaciuto. Quattro. Cinque. Cinque. Diciamo che l'album. Avevo le aspettative alte. Altissime. Le mie aspettative sono andate a picco. Sotto zero. Un fumo. Sono andati in fumo. In fumo. Un album. Mediocre. Un album pessimo. Mediocre. Io aspettavo bombe su bombe. Voi peggenno. O uno che tira fuori hit. Da tutte le parti. Invece no. Ora. Adesso siamo arrivati al. Diciamo. Al. Come. Aspettate. Siamo arrivati alla perla. La chicca. La chicca finale. Pendolari. Di shade. Così. Facciamo la reaction. A quella canzone. E poi. A quel. Poi. Dopo. Ci sarà la reaction. All'album di Gilead. Un video diverso. Se non viene un video di 40 minuti. Ora. Ascolto. Pendolari. Di shade. E poi vi dico cosa ne penso. E poi scrivete il video. Finalmente. Comunque. Se devo dare un voto all'album di Gilead. Cinque. Ok. Che la media non fa cinque. Ma cinque. Perché. È un album del cazzo. Bruttissimo. Cinque. Ora. Ascolto Pendolari. Di shade. E poi vediamo. E poi vi dico. Cosa ne penso. Polaroid. Di shade. Non mi è piaciuta. Non mi è piaciuta. Non mi è piaciuta. Se devo dare un voto. Personale. Alla canzone. Da un. Sei. Raga. Spero il video vi sia piaciuto. È stato lunghissimo. Questo video. Dura ben 14 minuti. Facciamolo arrivare a 15. Vai. 15 minuti. Raga. Spero il video vi sia piaciuto. Dindiamo qua sotto nei commenti. Qual è la canzone migliore dell'album di Gwe. Se l'avete ascoltato. E se a voi. È piaciuto anche Pendolari. Di shade. E secondo voi. Se Gwe. Ha fatto un album. Mettiamo. Bello. Cioè. Un. Album. Bruttissimo. Bello. Mediocre. Bello. Bellissimo. Album dell'anno. Facciamo. Rissumiamo così. Scrivetelo. Scrivetevi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao.